L'Active Recall è una delle migliori tecniche di studio, ma realmente come funziona e qual è il principio alla base? Soprattutto perché dovresti utilizzarla? Oggi ti voglio spiegare appunto questa tecnica, sia con aspetti un po' più pratici sia anche teorici, ma prima di parlare di questo ti ricordo che attraverso il link in descrizione puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Dal link ti basta inserire il nome e la mail in cui puoi ricevere le varie lezioni. Ci sono tanti contenuti, istruzioni, spiegazioni, esempi pratici e tanto altro. Per quello che invece riguarda il video di oggi vediamo la sigla e poi iniziamo a parlare di Active Recall. Quindi parliamo di Active Recall, nello specifico ti voglio spiegare, se non lo hai mai utilizzato come metodo, come tecnica di studio, come funziona, come applicarlo e soprattutto perché è efficace. Si chiama Testing Effect, quel principio appunto alla base dell'efficacia dell'Active Recall. Partiamo con ordine. Come vedi ci sono tre diverse fasi che di per sé sono semplici, ma è un po' più complesso poi applicarle man mano. Andiamo con ordine. Le tre fasi sono le seguenti. La prima è una fase di lettura rapida delle informazioni. La seconda è una fase di lettura attenta e approfondita, anche più lenta. La terza invece è una fase di ripetizione importante a voce alta, quindi devi ascoltarti quando provi a spiegare le informazioni. Ciascuna di queste fasi, che come puoi immaginare sono in sequenza, prima, seconda e terza, hanno un obiettivo specifico e individuale. Il primo obiettivo, ovvero l'obiettivo della fase di lettura rapida, è quello di farsi un'idea delle informazioni da studiare. Quindi devi cercare di avere, così, un quadro generale di che cosa stiamo parlando. Non devi assolutamente ricordare tutte le informazioni, né tantomeno avere capito tutto perfettamente. Leggi rapidamente, tanto per capire di cosa parliamo. La seconda fase, la fase di lettura attenta, invece ha un obiettivo un po' più specifico e anche un po' più complesso. Perché il nostro obiettivo in questa fase è quello di comprendere le informazioni e farlo in modo approfondito. Dobbiamo capire tutto, non cercare di acchiappare qualche concetto qui, qualche concetto lì e poi andare avanti, senza preoccuparci se questi sono collegati o se ci mancano altre informazioni. Dobbiamo comprendere in modo approfondito tutto quello che c'è da capire. Puoi capire quindi anche già la diversa complessità di questa seconda fase. La terza fase è quella di ripetizione, che ci serve per stimolare il ricordo delle informazioni che in precedenza abbiamo compreso. Grazie alla prima e alla seconda fase di studio. Quindi, in un certo senso, questa è la disposizione normale delle fasi. Segui la prima, la seconda e la terza e inizierai a comprendere e ricordare le informazioni. Ora, questa è la base. Voglio darti qualche consiglio in più per farti studiare, non necessariamente meno, ma sicuramente molto meglio, quindi in modo molto più efficace. Nello specifico, ti basta applicare la prima fase di studio una volta sola. Quindi la lettura rapida va benissimo una volta sola, tanto per farti un'idea, non c'è niente di approfondito che ci serve. Quindi, esclusa questa, poi la seconda fase. Io ti invito, dopo aver completato la prima fase e prima di passare alla terza, di applicare la seconda fase, quindi la lettura attenta, almeno due volte. Se il materiale è un po' più complesso, anche una terza volta, oppure anche di più, ma questo sta a te decidere. Io ti consiglio di applicare almeno due o tre volte, subito dopo la prima fase, prima di arrivare alla terza. Seguendo questo ragionamento, ti consiglio di applicare la terza fase ben due volte. Quindi, dopo aver ripetuto quello che hai preso come informazione di riferimento, ripetile un'altra volta. Questo ti permetterà di ottimizzare, appunto, la possibilità di mettere in moto, tra virgolette, questo testing effect. Cioè il fatto che, grazie alla nostra capacità di metterci alla prova, in un certo senso, e lo facciamo ripetendo le informazioni, stando attenti a ricordare tutto, ovviamente alla base di questo c'è la comprensione, allora in questo caso, questo, cioè il fatto che ci testiamo, stimola la nostra memoria. Infatti, proprio questo, la nostra capacità di ricordare le informazioni è proprio stimolata con questa terza fase di studio. C'è una cosa molto importante, che può sembrare una scorciatoia, ma che in realtà vanificherebbe tutto l'impegno che metti in gioco per applicare questa tecnica. La terza fase, quindi quella di ripetizione a voce alta, che ti ho consigliato di applicare due volte, non deve essere associata a nessuna forma di guardare il libro, sbirciare, vedere un attimo, non ricordo una parola, non ricordo un concetto, non devi guardare. Tutto quello che devi ripetere deve venire dalla tua memoria. Per questo io ti consiglio, qualora fosse necessario, di tornare a ripetere un'altra volta. O, e questo va ovviamente in sequenza al fatto che dobbiamo, applicandolo a sfruttare il testing effect, se dovessi avere ancora dei problemi, torna alla seconda fase, riapplicala da capo e poi torna alla terza. Perché vuol dire che sei passato o passata alla terza fase con troppa fretta. Vuol dire che le informazioni non erano state ancora comprese a sufficienza. Quindi ti consiglio di seguire questa procedura per applicare l'active recall nel modo corretto, per mettere in modo e sfruttare in modo altrettanto corretto il testing effect. In ogni caso, se dovessi avere problemi o magari hai bisogno di chiarimenti, non farti problemi a scrivere nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Il link lo trovi sempre in descrizione, basta il tuo nome e la tua mail. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti aspetto nel video che uscirà domani.